ciao a tutti bentornati sul canale benvenuti a serie car of the day quest'oggi guardate un po cosa abbiamo cosa abbiamo una bella hot wheels questa è un hot wheels d'altri tempi perché è una ferrari come sapete la hot wheels e soprattutto la mattel non ha più la licenza per produrre ferrari quindi questa è una hot wheels prodotta guardate è tutta in metallo si vede che erano altri tempi fatta in malese del 1995 guardate che bella questa la ferrari 355 guardate un po tutta in metallo è tutta un'altra cosa tutta un'altra consistenza rispetto alle altre guardate un po in che condizioni perfette questa l'ho trovata in un mercatino è un mercatino antiquariato ed è molto bella effettivamente l'ho pagata quasi niente meno di una hot wheels di oggi ma è perfetta perfetta meno male che quasi quasi non la prendevo perché ho detto chissà quanto me la mette invece poi mi ha lasciata un prezzo veramente veramente eccezionale e soprattutto in una condizione bellissima noi di ferrari ne abbiamo tantissime potete vedere qua vi lascio vi mando al video dedicato alle ferrari dove c'è una piccola parte delle nostre ferrari e questo è proprio pesante bella bella si sente proprio una bella consistenza questa macchina qua sono molto contento perché l'ho pagata veramente meno di un hot wheels attuale ed è una macchina molto fatta bene fatta bene guardate poi come bella cattiva bella mi piace molto mi piace molto perché una bella proporzione bella bella cattiva cicciottela non so però è bella e cattiva va bene abbiamo capito quindi questa serie car of the day oggi abbiamo una hot wheels storica mitica perché del 1995 ma soprattutto già il pianale in metallo che ormai sapete che ormai è un teatro un'utopia trovarlo in metallo ormai sono tutta plastica plastica a tutte le parti perché si deve risparmiare su tutto e soprattutto anche sul peso ma questa invece è bella solida quindi questa è una bella ferrari 355 potete vedere tutte le nostre ferrari andando giù sul canale perché ne abbiamo veramente tante poi piano piano facciamo degli nuovi speciali ferrari perché ne abbiamo tante soprattutto perché la mattel appunto la hot wheels non ha più la licenza per produrre ferrari questa serie car of the day una macchinina al giorno e un video al giorno ci vediamo domani con un nuovo video una macchinina iscrivetevi al canale condividetela con i vostri amici lasciate un commento fate quello che volete basta che insomma interagite un po con noi perché così almeno andiamo avanti con questa serie la serie car of the day ci vediamo domani ci vediamo anche domenica con il video quello classico che come potete vedere lungo il canale quando si scrollate giù il canale potete vedere tutti i video che abbiamo fatto dallo speciale ferrari speciale corvette lamborghini e tanti altri ma soprattutto potete vedere tutte le novità che realizzeremo nei prossimi giorni ciao a tutti alla prossima ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!